Domani trasferta a Cagliari contro l'Elmas per la futsal San Giovannese, Pisconti è recuperato, anche se sarà a mezzo servizio. Pasqua e Liburdi restano a casa per squalifica, i due Fernandez Vargas hanno lasciato il sudalizio da tempo, quindi la rosa è al minimo. Visto il costo, anche se Rafini sarà al referto, avrebbe potuto esserci anche Mister Toria, teoricamente in gioco, ma anche lui è appedato dal giudice sportivo. Così, senza particolari pretese, ecco una gara dalla quale in ogni caso non c'è da aspettarsi niente. Sicuramente sarà difficile, non solo perché siamo gli uomini contati, ma come abbiamo già fatto vedere in Sardegna noi abbiamo un certo feeling e ci si prova. Francesco Beccatini peraltro spera adesso di ritagliarsi in maggiore minutaggio nel finale di stagione, anche se, come dice, molto dipenderà proprio da lui. Fazio, alla fine me lo devo meritare e me lo devo guadagnare perché siamo una squadra con tanto talento, con tanti buoni giocatori e sono felice già di esserci.